Salve amici, benvenuti in questo mio canale, sono Jaime Luis Visconde e questo è il canale sportavista di arti marziali. In questo canale potete trovare diversi video tutorial sulle arti marziali, sull'allenamento, sulle tecniche marziali vere e proprie e su tutto quello che riguarda il mondo delle arti marziali, quindi abbiamo anche approfondimenti sulla storia, sui libri, sui film di arti marziali. Se questo canale vi piace vi invito sempre a lasciare un like qui sotto ai video, a scriverci nei commenti cosa potreste vedere nei prossimi video e ovviamente seguiteci anche su Facebook e Instagram. Infine ragazzi vi ricordo che è attivo il nostro store online, quindi se volete supportare il nostro lavoro, se il nostro lavoro mi piace potete aiutarci acquistando le nostre magliette, i nostri gadget sul nostro store online che appare sotto l'impressione. Vi auguro quindi una buona visione qui sul canale e vi ricordo sempre di condividere i nostri video nelle vostre reti social.